Inizia il secondo set, Musetti a servizio Dai, dai, comincia bene, forza Lorenzo, provaci, dai 0,15 0,30 Bublik tenta una palla corta, Lorenzo ci arriva e Bublik non riesce a organizzarsi 15,30 Lorenzo è scivolato e dolorante a terra, no, cazzo, guarda Non è delle migliori, lo sappiamo No Gli è scivolato il piede, ha fatto una spaccata involontaria Si è rialzato ma è dolorante, fortemente dolorante Vediamo Si tocca tutto l'inguine, è un tutto scivolone